Sindaco Palomba, a quattro anni dalle elezioni, cosa bisogna dire alla città? Allora Ciro, la domanda che mi poni è un po' il resoconto di questi primi quattro anni, ne rimangono esattamente 11 mesi e pochi giorni. Ti dico subito, il testimone fu dato da un commissario prefettizio e il testimone che mi fu dato c'erano sicuramente tutta una serie di problematiche, perché poi 11 mesi di commissario prefettizio non c'era un'amministrazione. Le problematiche io le ho trovate subito, di varia nature, e posso dire che in questi quattro anni sicuramente tutte quelle che erano le scadenze secondo i bilanci, previsioni di bilanci, assestamenti di bilanci, tutto quello che erano i fondi che bisognava intercettare, in particolar modo per il PNRR, cioè tutto quello che la legge ci diceva di fare, noi abbiamo ottemperato a tutto. Oggi, stamattina, abbiamo fatto un consiglio comunale, perché due delibere non erano pronte nel precedente consiglio, erano variazioni di bilancio con il potere del consiglio, ma c'erano tre argomenti, cioè noi in questo momento, all'ordine del giorno del consiglio comunale, c'è quasi nulla, o praticamente nulla per quanto riguarda delibere di importanza per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Logicamente la domanda sorge spontanea, la problematica dei rifiuti. Ciro, allora, se vogliamo, la prima regola per quanto riguarda un'amministrazione è se l'amministrazione riesce a non far venire nessun commissario o prefettizio. Io penso che questo, in un DNA di un'amministrazione, il punto basilare è se un sindaco riesce a mantenere, quindi con la politica, con i consiglieri comunali, con la gestione, con i cittadini, riesce a mantenere la, come la possiamo chiamare, barchetta, perché poi la mia è una barchetta senza remi. Io sono un civico, dietro di me non ci sono i partiti, non ci sono ministri o sottosegretari, io sono solo. E questa barchetta che qualcuno pensava, vabbè, non farà sei mesi, non farà dodici mesi, vabbè, si vota il primo bilancio ma il secondo non lo voterà, stiamo raggiungendo un record. Lo sapete che negli ultimi cento anni solo tre sindaci sono riusciti a mantenere cinque anni un'amministrazione e mantenere un'amministrazione per cinque anni non è facile, vuol dire che qualche cosa questa amministrazione, questo sindaco, più o meno ha saputo mantenere. Quindi ci aspettiamo un palomba bis. Allora, prima di questa domanda, poi, secondo, ecco, sapere mantenere l'amministrazione tutti i cinque anni, non ci siamo ancora riusciti perché mancano undici mesi e ti voglio ricordare che io ho subito due attacchi frontali, uno nel gennaio del 2020 dove sette consiglieri della mia maggioranza si chiamarono fuori e un altro l'ho subito a dicembre del 2021 quando il Presidente del Consiglio, un altro consigliere comunale, si chiamano fuori e poi a febbraio con una mozione di fiducia che c'erano tutti i numeri per andare a casa, ma che cosa sia, cioè, in sostanza, si faceva il tifo affinché la città di Torre del Greco e altre città a noi vicinori ce l'hanno per avere un commissario prefettizio. Se questo è il bene che uno vuole alla città, e allora, veramente, vuol dire che qualcosa molti di noi non l'hanno capito. Per quanto riguarda il problema dei rifiuti, tutto quello che vogliamo dire, purtroppo io lo dico, la responsabilità è del sottoscritto. Abbiamo provato, abbiamo tentato, ma non posso dire che c'è un voto positivo, né mediocre, c'è un voto di insufficienza. Io devo ringraziare il Consigliere Mele e l'Assessore Mirabella, che realmente ci stanno mettendo tutto il loro animo, veramente è la lotta che fanno, è continua e continuata. Cosa che io onestamente non ci riuscivo, perché poi stare dietro a quelle che sono anche delle cattivere, cioè noi prendiamo, visioniamo un cumulo di immondizia, un cumulo che non dovrebbe starci e troviamo la scusa a dire che è colpa del sindaco, non tenete le videosorveglianze, fate i controlli e viceversa. Ma il cumulo lì non dovrebbe starci. Ma quel cumulo è solo responsabilità del sindaco. Fa piacere scaricare semplicemente al sindaco? Va bene, ma il cumulo la resta. Vedete, un paio di mesi fa mi capitò, io non è che seguo molto Facebook, ogni tanto metto le mie frasi, ma non è che io seguo, o sono uno accanito continuamente a seguire gruppi, no. Anche perché Facebook, tutto quello che si scrive, bisogna denunciarlo con i fatti, non che io lo denuncio su Facebook, perché Facebook non ha nessun valore denunciare o scrivere, non porta nessun valore, perché quello può essere una fake, può essere una fotografia così messa di tre mesi fa, di due mesi fa. Mi capitò di vedere un cumulo di immondizia vicino a un muro dove non ci sono abitazioni. la zona la conosco, conosco anche la persona che posta questo. Mi capitò, ecco, la chiamai, andai sotto al suo palazzo, è un'amica, niente di eccezionale, e disse, ma il vostro palazzo è tutto pulito. Dice, no, ma come perché è tutto pulito? Perché l'immondizia non la devo gettare di fronte. La signora conosceva bene che il porto a porto e l'immondizia la devi tenere sotto il palazzo tuo. La cosa triste è che praticamente la signora, ecco, capì che il problema è che tu mi metti il cumulo di fronte, vai a mettere la spazzola di fronte, non te la ritirano, perché il camioncino non si deve fermare dove non ci sono i palazzi. Mi si dice, ma molto spesso noi facciamo la differenziata e non passo. E in quel momento chiamiamo i vigiurbani, chiamiamo i carabinieri, chiamiamo la polizia, chiamate tutto quello che dovete, perché siamo nella ragione. Ma se noi vogliamo solamente correre dietro ai comuni, è un problema. Ma finiamola con l'immondizia. Il finale, la colpa è solo del sindaco, siamo tutti tranquilli, abbiamo vinto la battaglia, il sindaco non si è buono, va bene così. Questa amministrazione ha intercettato 44 milioni del PNRR. Sono state già indette le gare per quanto riguarda il palazzetto dello sport per la progettazione e per le case popolari di San Antonio. Siamo stati coloro che hanno votato la delibera per quanto riguarda il porto turistico. è un qualcosa di enorme, 77 milioni di euro, ma guardate, è un atto che è un punto di riferimento per qualsiasi amministrazione che verrà. Perché lì si può fare pubblico e privato. E stiamo cercando anche di parlare, quando sono andato a Bruxelles, ho parlato di questo. Logicamente non è semplice, non sarà l'amministrazione Palomba, né quella che verrà dal giugno del 2023, che riuscirà a chiudere questa possibilità importantissima. Ma abbiamo messo le basi con questa amministrazione. Il PUC, erano 30 e passa anni che non si metteva mano per quanto riguarda la questione urbanistica, e chi ne capisce comprende di quello che è stato detto. E non è facile, perché per votare un piano urbanistico ci sono tante difficoltà. Ci sono tante difficoltà, perché ci sono vari luoghi dove pensare come sviluppare la città. E abbiamo fatto quadrare, abbiamo fatto sì che praticamente la delibera è passata tranquillamente in Consiglio Comunale. Chi ne capisce di queste cose, sa bene di cosa sto parlando. Io ho dato una volta e per sempre il Palazzo Baronale, e qui mi riferisco alle scuole, il mio rapporto con i presi, con gli istituti scolastici, con i professori, con gli alunni. Il Palazzo Baronale è aperto a tante scolaresche che sono venute qua, si sono seduti nei banchi del Consiglio Comunale a fare le domande, ma lo sanno tutti. Quello che abbiamo dato a tutti i gruppi teatrali, le associazioni, il mio rapporto continuo è continuato con tutti quanti, che prima non c'era, o forse qualcuno pensava che è solo e esclusivamente un solo problema, immondizia. Questo accanimento terapeutico, dove una trentina di giorni fa, nella processione del Corpus Domini, dove io ho partecipato da sindaco, svoltando e salendo per via a Biscopia, fuori alla chiesa di Rosario c'erano una ventina di aste lunghe 15 metri, con dei chiodi che sporgevano di 10 centimetri. La colpa è del sindaco, perché il sindaco li ha messi là, perché voleva che qualcuno si facesse male, ma nessuno vede, nessuno ha visto. Scendendo via 20 settembre, ma lasciamo perdere, ci sono tanti altri piccoli posti. C'è un punto, subito sulla sinistra, dove immancabilmente ritroviamo su questo marciapiede, che è di 20 centimetri, degli ingombranti. Lì si va a scuola, ci sono le nostre nonnine, i nostri genitori, che devono scendere a marciapiede, e lì i marciapiedi sono alquanto alti, anche per la questione della LAV. Ecco la macchina che può investirli. Ma intanto l'ingombrante viene messo là, lo si toglie. La colpa è del sindaco, non è messo la telecamera, non è fatto stare i vigili urbani. Forse sono state anche intercettate persone che praticamente, povere Dio, che non hanno né cielo né mare né terra da vedere, e fanno sempre le stesse cose. Certo, voglio dire, la collaborazione è fondamentale, ma questo per dire, caro Ciro, che la colpa è sempre del sindaco. Non vi preoccupate, basta che siamo felici, siamo tranquilli. La colpa è del sindaco, sapete dove? Quando bisognava, e noi le abbiamo fatte, teneremo solo l'isola ingombrante sulla circonvolazione, dovevamo fare un paio di isole ecologiche, ma non quelle ecologiche in mezzo alla strada, quelle che si inventò qualcuno, che serviva forse a chissà che cosa. Bisognava farle un paio di isole, di ingombranti, di plastica, di carta, di vetro, e lì, e la colpa è veramente del sindaco. Non ci sono riuscito, perché ogni qualvolta ho messo mano e dire, le facciamo qui, le facciamo lì, purtroppo io ho avuto problemi. politici, di cittadini, non sono stato bravo. E realmente lo dico, perché ci volevano questi punti, perché tranquillamente io potevo portare a un'altra isola per quanto riguarda gli ingombranti, la plastica, la carta, il vetro, ecco, materiali nobili. Questa è la vera colpa del sindaco. Non ci sono riuscito. Poi ho provato a poter gestire tutto quello che c'era da gestire. E ripeto, oggi, 15 luglio, dei liberi in Consiglio Comunale non ce ne sono. Dei liberi in Consiglio Comunale non ce ne sono. Voglio ricordare una piccola cosa. Oggi la Turris è nella Lega C. Io sono stato presidente della Turris. Capì che Antonio Colantonio era una persona realmente che vuole bene la città, perché è un imprenditore, un presidente serio. E capì a monte che praticamente la Turris avrebbe fatto passi enormi. E fui proprio io a intuire che bisognava fare i lavori, la Turris stava ancora in interregionale, non professionisti, di fare i lavori che oggi il Manderboso, la videosorveglianza, i fari, tutto quello che serviva per rendere quel campo per la Lega C. Questo è fondamentale, perché oggi la Turris poteva non giocare. E siamo uno dei sette campi in campagna che praticamente hanno questa autorizzazione. stiamo cercando di fare un altro piccolo lavoretto, che penso lo faremo il fine agosto per dare alla tribunetta, diciamo così, dietro la porta. Voglio dire, dove si è potuto? Abbiamo intercettato e abbiamo lavorato seriamente. Vi voglio ricordare, per quanto riguarda il Covid, non ce lo dimentichiamo mai, che sottoscritto, assieme al sindaco Distriano, siamo stati i primi a capire il Covid e cosa significasse. Perché avemmo gli insegnanti con il Covid e io chiusi le scuole lo stesso giorno, con telechiuse dopo 48 ore. E quella sera io ebbi una quantità, due o tre telefonate da Roma, perché volevano sapere, oppure mi arrivava il prefetto per togliere l'ordinanza di chiusura, per come mai le avevo chiuse. E ho detti tre motivazioni. Che poi a 48 ore furono chiuse le scuole. Ho seguito passo passo tutto quello che bisognava seguire. e stavo qui, in quest'aula, all'aula della sala giunta, e penso, Ciro, mi avete sempre trovato. E mi trovate sempre, senza nessun problema. Un sindaco che non usa, e questo me lo dovresti dire tu, la macchina del comune non la uso, il telefonino è sempre il mio. Cammino con il mio motorino, con la mia macchina. Ma sapete perché? Perché io sono di Piazza Santa Croce, sono di Via Comizi, esattamente sui mezzi di Cappellona. Una persona che ha sempre vissuto tra gli amici, ha sempre vissuto così. Mi piace andare a mare in Lidi della nostra città. Sanno tutti dove vado a mare, ma o qui o lì per me è la stessa cosa. Potremmo dire che sono così, un po' alla buona, potremmo usare qualche altro titolo, diciamo così. Mi sta bene, sono fatto come mi vedete, senza nessun problema. Ma Ciro, le colpe, datele sempre a Giovanni. Tanto, io ho sempre vissuto, e i figli danno sempre la colpa ai padri, e i miei genitori danno sempre la colpa ai figli. Al negozio, i miei clienti, quando non fa qualcosa, danno la colpa sempre al titolare. E così, io ho sempre vissuto perché sono sempre stato in prima linea, quindi non è un problema. Allora, quindi, un palombabiste ci sono i numeri? Allora, palombabiste, ricordo che palomba la mia elezione al sindaco, dieci giorni prima, io non ero candidato, io dovevo essere di supporto a una lista, e quindi a un sindaco di una lista che poi purtroppo non si è nemmeno presentata. Allora, io l'appello che faccio è, oggi è luglio, con calma. Vedete cosa sta succedendo a Roma, all'improvviso. Allora, io sono diventato sindaco non per i miei meriti, ma per i miei meriti di altri. Cioè, un mese prima, una lista ha preso il 54% a Torre di Greco, il mese dopo il 14. Vogliono dare le colpe a mille motivi, però quando si prendeva il 54%, i torresi erano tutto quanto buoni. Erano torresi che andavano a votare tranquillamente, non venivano fermati fuori a sé, c'era tutto per persone e per bene. Dopo un mese, perché si prende il 14%, ognuno ha detto il suo bel motivo. L'altra lista purtroppo non si è candidata, cioè non ha avuto modo di presentarla. Allora io dico, a quelli che sono i partiti che stanno in Parlamento, siete voi che dovete fare i passi, siete voi che dovete nominare il vostro candidato Sinna. Io sono un civico, veramente io sono un democratico cristiano, lo dico sempre, io sono la democrazia cristiana, prima Repubblica corrente d'Orotea. E' una cosa ormai che è finita nel 92, ma per me io resto tutto il mio cuore sempre là. Oggi sono un civico, sono stato Udc, sono stato Forza Italia, sono stato Partito Popolare, perché la Seconda Repubblica è stata di tutti i partiti che sono nati e poi sono scomparsi. Oggi sono un civico, so a chi votare l'anno prossimo quando riguarda il Parlamento. Allora i partiti storici, quelli nel Parlamento, facciano i loro passi. E speriamo che lo fanno quanto prima, in modo tale che noi ci mettiamo l'anima tranquilla. E sappiamo che praticamente i partiti si sono mossi, le coalizioni si sono mossi. E evitate anche a noi civici di iniziare a muoverci, a fare, ad organizzare, perché guardate non è facile, veramente non è facile. Dopodiché se loro non fanno nulla, è caro Ciro, qualcuno si trova pur a prendere l'impegno, non solo io ma altri, di poter pensare a qualche cosa per quanto riguarda maggio dell'anno prossimo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS